Salvini rilancia il grembiule obbligatorio a scuola, così non ci sono belli e ricchi, ma sono tutti uguali È una questione di convivenza civile.Durante la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali previste in Basilicata per il 24 marzo, Matteo Salvini ha riproposto un tema da sempre caro alla Lega, quello del grembiule obbligatorio nelle scuole Punto a Lauria, in provincia di Potenza, ha infatti dichiarato, a scuola per me metti lo stesso grembiule a tutti, così non ci sono belli e ricchi, ma sono tutti uguali Punto il ministro dell'interno si è così espresso su un tema che non è di competenza del proprio ministero, ma di quello del leghista Marco Busetti Grembiule a scuola contro le differenze alle elementari e alle medie avevamo il grembiule uguale per tutti e non c'era chi aveva la felpa firmata Si tratta di una questione di educazione e convivenza civile ha spiegato Matteo Salvini, come riporta Repubblica Sempre sul tema della scuola ha poi dichiarato, dalla scuola bisogna ripartire, mettendo al centro la maestra Io, quando leggo dei genitori che avrediscono gli insegnanti per i brutti, voti penso che bisognerebbe dare due schiaffoni ai genitori, non ai bambini Sul tema dell'istruzione a scuola Matteo Salvini si era espresso anche a Maratia, a settembre torna come materia obbligatoria a scuola l'educazione civica, per imparare di nuovo rispetto ed educazione